Andiamo all'una part delle streghe! Dopo? Sì, tra poco. Ehi! Andiamo a mangiare lo zucchero filato! Ma amore, ma cosa stai facendo? Lo so, Rico, credo che ho fatto a scuola. Mamma, sei bravissima, amore mio. È tutta la mattina che sei impegnata, scolasticamente parlando. Perché la voglio attaccare dietro. Ma mamma, sei troppo brava. Prima hai scritto tutti i nomi dei tuoi amici su un foglio di carta. Lo sai che sei proprio una brava bambina? Ti piace andare a scuola, Anastasia? Senti un po', fammi vedere la faccia. Che cos'hai? Sono usciti nei di questa notte. Oddio, fammi vedere! Ma sei tutta sporca di Nutella e anche un po' di penna. Come mai? È strano che sei sporca di Nutella. Cos'hai mangiato a colazione stamattina? Pronto? I cereali con latte. I cereali con latte. Ma sei bugiardissima. Senti un po', dopo dobbiamo uscire perché dobbiamo andare a cercare questo libro delle greche che non riesco a trovare. L'abbiamo preso su Amazon ma probabilmente è sbagliato. Adesso quando arriva verifichiamo ma ho già verificato. E secondo me non è quello giusto, ok? Andiamo a vedere cosa sta facendo tua sorella. Buongiorno! Allora, siamo ancora in pigiama. Sei mezza d'almata e mezza babbo natale. Fantastica! Senti un po', dobbiamo uscire più tardi e dobbiamo farci un bagno di quelli non igienizzanti ma di più. Questa testa, questa testa è da lavare, questo corpo è da lavare. Ma, girati, girati che ho una bellissima notizia per te. Non vuoi. Vai a fare i compiti. Ciao. Ciao. Bellissima notizia. Vane, vai a fare i compiti. Ma bimbe, brave! Hai fatto tutti i compiti Anastasia? E cosa hai fatto? Qua c'era da fare pagina 7 e pagina 9. A quale lettera siamo arrivati? Alla ultima vocale, cioè la... Vediamo. Ho fatto questo. Bravissima, Anastasia. Ha finito le vocali. L'ultima è questo. Wow! L'ultima sarà questo. Sai cosa devi fare in questa pagina? Devi scrivere in corsivo. Anastasia, ma ti sei truccata? No. Per fare i compiti? Sì. Se finite tutti i compiti, fino a quando ci sarà il sole... Si, c'è il sole. Appunto, ma prima o poi andrà via il sole. E se il sole andrà via, noi resteremo a casa. Altrimenti dove andiamo? Al Luna Park delle streghe. Perché? Cosa? Andiamo al Luna Park delle streghe. Tra poco? Sì, tra poco. Andiamo? Sì. Siete pronte? Avete finito i compiti? Sì. Siamo arrivate. Siete contenti? Stiamo per entrare a Luna Park delle streghe. Siete pronte a delle giostre spaventosissime? Siete pronte. Wow, guardate, siamo arrivati. Provarlo? No, è bello. Proviamo questo gioco? Chi è che vuole provare? non abbiamo vinto nel telefono e neanche la telecamera dai vai a sparare vediamo cosa riesci a sparare ma qua c'è il mitra con la pistola sei pronta? ti ricordi come si fa? un po' giochi anche tu però non hai ancora fatto niente lo vedi? si una guarda se vuole il laser glielo do subito vuoi il laser? guarda brava amore allora signorina sei bravissima a sparare le hai presi quasi tutti fammi vedere questo pollicino che te ho preso con i punti che bello quante colore? ok Ani dove vuoi andare? con quello là va bene andiamo cosa avete scelto? il canguro? no andiamo io dillo a qui c'è per ora siamo i primi sei pronta? ciao Ani però devi guardare prima vai Ani guarda vai non avere paura amore ma vai è un gioco amore sei tranquilla dai Ani guarda il gioco guarda guarda chi c'è è lo stesso è lo stesso che bello è bellissimo guarda 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 qua guarda 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 chi c'è guarda Ani guarda no davanti davanti guarda 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 ma non piace ti ha fatto la foto ben guarda ma perché hai pianto? ma no amore ma è un gioco Vieni qua, vieni qua, ma no, ciao Gata, ah meno male ti sei rilassata, ti sei spaventata tanto, ma no, perché, ascoltami Ani, è un gioco, non devi aver paura, andiamo a mangiare lo zucchero filato, ascoltami, cos'è che ti ha spaventato, le immagini, quelle brutte brutte, sono state brutte, hai ragione, dai che adesso arrivano, andiamo a mangiare lo zucchero filato, ti va? Dai bacino la mamma, guardate come piange Anastagio, ma è stato bellissimo, ma perché? Ma perché? Spostatevi da qua, a me mi ha fatto wow, lei sta piangendo proprio per quelle immagini, si è spaventata tantissimo, vuoi lo zucchero filato rosa? eh, sei contenta, ti sei divertita comunque? Sì, anche mi sono divertita un sacco, davvero? guardate, guardiamo, che buono, guarda Anastasia, prendilo, vediamo un po' questo zucchero filato com'è? E posso assaggiare un pezzettino? Oh! Non so se riesco a mangiare tutto, ok? Non so se riesco a mangiare tutto, ok? Non so se riesco a mangiare tutto, ok? Se so se lo sono quello manco! Eh, magari ne lascio un po' manetta! Ok, partita anche la numero 8, ve la come sta volando, bravissima! Eh Anastasia, è nel labirinto amore di specchi, eh? Chissà se riesce a uscire fuori! Me l'avete fatta, brave! Siete riusciti! Sei pronta ad andare sugli autoscontri con la mamma? Eh? pronta a una guida sfericolata? Voglio andare a sbattare contro tutti? Tieniti forte! Vieni! 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 Andiamo ad attaccare Giotta e Vanessa! Quanto ci siamo divertiti amore? Tanto! guys! Sì, 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 sì. Gli autostomni sono i più di potenti, vero? Spero che non so da l'altro. La fece, ragazzi, che dopo vengono a casa nostra, pensiamo? Ma può darsi. Adesso dimostraci quanta forza hai nelle braccia, ok? Ma no, ma non questo. No! Ma non è questo. Non è questo. Ma che ne può fare? Sei pronta? Ma non va! Devi mettere prima i soldi però! Ho paura che è più grande! Vai Vanessa! Facci vedere chi sei, Vanessa! Pronta? No! Non è neanche salito! Ma perché? Perché questa è la sua porta! Sì! Ah, sei arrivata a mille però eh! Sì! Sei aumentata! Niente, niente! Mille! Ultimo! Ultimo! Vai! Sei arrivata a manca a mille! Mi sei stancata! Brava! Quanto vi siete divertite? Tantissimi! Siete ancora lì che salutate Giada! Quanto vi siete divertite? Tanto? Sì! Però Anastasia non dovevi piangere per quella Giada! La macchina è qui bimbe! Dove andate? Sapete che ha contratto Sofia la mia compagna? Sì! C'era anche Sofia! Ma c'erano un sacco di bimbi che conosciamo! Perché oggi... E sabato ci sono... E allora stavo pensando che magari ad Halloween possiamo venire qua! Perché ci sono anche i giochini delle attrazioni! E poi hanno detto che di sera da Halloween ci saranno dei dolci buonissimi e si può venire travestiti anche! Esatto! Divertita? Quanto? Tanto! E' stato bello! Ma allora ditemi una cosa! Qual è la giostra che vi è piaciuta di più? Quella dove hai detto il trenino! Davvero? No! Io ho gli autoscontri! Io mi diverto troppo sugli autoscontri! Siamo andati sugli autoscontri e te insieme è stato super divertente! Ho fatto anche un pezzettino di video! Sono stata bravissima a non far cadere nel telefono e neanche a far cadere te! Poi sei andata su quello dove ti sei spaventata tanto amore! Ma è solo un gioco! E poi? Sulla giostrina quella con i vane! E io anche quella lì su con Giada con... Su quella lì dei vetri! Ah tu sei andata anche nel labirinto degli specchi! A me e anche l'altra! Anche nell'altra! Ma a me ne piaciavano due! Te ne sono piaciuti due eh! Quando sei andata sulla giostrina! Tre 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 tre! Quella è la dove siamo andati! Riato scontri! Poi quella è la dove andava su e giù! E poi la sera! E quella dove ti sei spaventata! Il trenino fantasma! Il video finisce qui! Iscrivetevi al canale! Attivate la campanella! Lasciate il pollicione! In su! Ciao! 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 Ciao!